Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questa è la Rassegna Stampa, Paocchio e giornali, buona giornata, siamo in diretta alle 7.30, un saluto anche a chi ci segue alle 13.30 per esempio e anche nelle altre repliche durante la mattinata. Andiamo subito a vedere il calendario, oggi la chiesa ricorda San Cirillo di Gerusalemme, parliamo di un santo che nacque a Gerusalemme verso il 315, ordinato sacerdote quando aveva 30 anni. Morì nel 387 ed è stato dichiarato dottore della chiesa. Il sole è sorto alle 6.13 e tramonterà le 18.19 minuti. Per quanto riguarda il tempo non è che ci sia molto da dire, nel senso basta dare un'occhiata alle immagini della grafica animata della protezione civile delle Marche che pubblica come sempre sul sito le previsioni per tre giorni. Oggi per esempio avremo un cielo sereno, poco nuvoloso con temperature in lieve aumento nei valori massimi, domani lo stesso ancora temperature in aumento, anche quelle minime. E poi domenica, domenica cielo sereno poco nuvoloso per un transito di nuvole medio-alte, soprattutto nel pomeriggio, avremo temperature in aumento nei valori minimi, stazionario in lieve aumento invece le temperature massime. I primi giorni della prossima settimana ancora con tempo stabile, poi probabile peggioramento per la giornata di mercoledì. Allora, il tema dell'ospedale unico lo troverete anche oggi sui tre quotidiani. E' vero, il messaggero e il Corriere hanno delle impaginazioni diverse, per esempio il messaggero esce oggi con l'edizione delle Marche, quindi bisognerà sfogliare, entrare dentro e vedrete un'impaginazione un po' diversa. Però comunque le notizie ci sono, le vedremo tra poco, così come il Corriere ed edizione di Pesolo, almeno quella online, non ha gli inserti di Senigallia, non ha le pagine di Senigallia. Allora, andiamo a leggere, cominciamo dalla prima pagina del resto del Carlino, eccola qua, con Valentino Rossi che oltre alla moto, a quanto pare, si diverte a giocare anche a calcio. E ai calci di Rossi dedica la fotonotizia, la copertina, l'edizione pesarese del resto del Carlino. Valentino protagonista anche in Qatar, gioca a calcio con Xavi e poi tallona Lorenzo, Linda è già dimenticata. Poi la cronaca con un'infermiera, un'infermiera che faceva il pieno di farmaci, prendeva quelli più costosi, 500 mila euro e più forti della morfina. Utilizzate ricette di un medico defunto, scattata l'indagine, il racconto sulle pagine interne in nazionale del resto del Carlino. Poi sull'ospedale unico, Fano dice no a Ceriscioli e Seri deve dimettersi. Entriamo allora nelle pagine interne, ma la pagina di Fano questa mattina il Carlino la dedica al dirigente Pietro Celani, dirigente comunale capo delle risorse umane e tecnologiche, ora anche capo del gabinetto del sindaco Seri. dirigente che lavora troppo, scrive il Carlino, scatta l'aumento a 3-0, insorgono i 5 stelle. Celani nel Mirino, Seri dice noi però ne risparmiamo così 90 mila. Il sindaco si difende, lo staff, il mio staff non è mai stato così esiguo e dimezzato rispetto a prima. Poi sempre nella pagina di Fano, del resto del Carlino, la cronaca. In fondo vedete ladri alla materna, la scuola materna Manfrini, genitori allarmati, c'era del sangue a terra, i bambini sono stati radunati nella cavea, magro il bottino, solo vestiario, vestiario che apparteneva ad un dipendente. Mentre sulla Saipem il vice ministro Teresa Bellanova garantisce su Fano, quindi per gli oltre 800 lavoratori della Saipem di Fano non ci sarebbe nessun rischio di ridimensionamento. La pagina di Fano e Urbino con la notizia dell'arresto di un ventenne pesarese che è stato trovato con addosso 52 grammi di hashish, 5 di marijuana e 5 di cocaina. In massa si erano dati appuntamento in una discoteca di cartoceto, una serata, una maratona di 12 ore con musica tecno, imbottiti di droga, scrive il Carlino, segnalate anche altre sei persone, un tam tam che era partito su Facebook mentre sul posto con i suoi uomini è anche il maresciallo Antonello Pannaccio, comandante dei carabinieri di Saltara che ha coordinato i servizi di controllo dei ragazzi che si stavano recando alla festa tecno. proprio li hanno aspettati con tanto di macchine vicino alla discoteca e man mano che arrivavano venivano controllati, in poco, in 4-4-8 hanno riempito la caserma di giovani e giovanissimi. Questa è la cronaca, poi sempre dalla pagina di Fano del resto del Carlino, il lutto che ha colpito la CGL, la morte del sindacalista Bruno Tranquilli, oggi ci saranno i suoi funerali alle 10 nella chiesa di San Giovanni appunto a Marotta. La baby gang invece che per diverso tempo ha creato terrore, paura a Montecchio è stata individuata nei mesi scorsi, adesso sono andati a processo per rapine e botte, il pubblico ministero ha chiesto per due di loro, due di questa banda, due che facevano parte di questa banda, 4 anni di reclusione, rubavano persino le pizze surgelate mentre entravano nelle case, poi se beccavano, se trovavano un testimone, non avevano problemi a malmenarlo e a dargli 4 legnate. Sono stati presi, altri due sono stati indagati dalla procura dei minorenni, partecipavano attivamente, ci sono quindi anche dei minori, c'è tutto il racconto che troverete sulla pagina 5 del resto del Carlino. Poi qualcuno ricorderà invece di quei bambini terribili, verrebbe da dire, di Villa Fastigi che avevano deciso di passare il pomeriggio entrando in un pollaio e massacrando dei pulcini. Strage di pulcini, archiviata l'inchiesta sui tre bambini che appunto avevano ridotto, ecco questa è una delle fotografie che riguardano appunto i tre pulcini che sono stati presi e seviziati, insomma uccisi da questi bambini. Andiamo adesso sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano si occupa dello stipendio appunto del dirigente, 10.000 euro invece di un altro dirigente. I 5 Stelle attaccano la Giunta per le funzioni di capo di gabinetto date a Celani. La replica del sindaco per i pentastellati, personale politico assunto tra i collaboratori. Se riafferma di aver dimezzato gli incarichi. Poi sotto invece c'è la protesta di Alessandro Giommi, chi abita a Fano sicuramente lo avrà riconosciuto in questa fotografia, consigliere provinciale di un'associazione, che è l'Associazione Nazionale Mutilati Civili, dice noi disabili siamo discriminati. La protesta si riferisce in particolare al pronto soccorso e ad uno scalino che c'è appunto all'ingresso del pronto soccorso e Giommi dice cosa ci vuole ad appianarlo e quindi a renderci la vita un po' più semplice. Il prestigio a Palazzo Bracci, che Palazzo Bracci molti lo conoscono, è lo storico palazzo che è oggetto di un radicale intervento di restavo da parte della Fondazione Carifano, che è sul punto di essere restituito alla città come prestigioso contenitore di iniziative e culturali. Si trova davanti in pieno centro, in via Arco d'Augusto, davanti al caffè centrale, davanti alla ex scuola Luigi Rossi, alla memoteca, insomma, uno storico palazzo, un palazzo bellissimo davvero. Speriamo di poterlo andare a visitare presto per l'inaugurazione del bellissimo contenitore, la città dovrà attendere però il prossimo 21 di maggio. La pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, ospedale unico, spese tagliate per 14 milioni. Secondo lo studio di fattibilità di Marche Nord, c'è un risparmio netto con il canone del project financing. L'elaborato completo è stato tenuto riservato per quasi due anni. Valori di massima senza dettagli. Gli atti della regione in perfetta continuità con Mezzolani, l'ex assessore regionale alla sanità. Per altri siti mancano analoge. E sopra il sindaco di Fano parla di un errore madornale e del fatto che ora diventa tutto più difficile. Questo non è il modo di affrontare una questione seria e difficile come quella della sanità, ha detto Massimo Seri, che è rimasto spiazzato e amareggiato dalla notizia della presentazione alla regione Marche da parte della società Inso di un progetto per costruire l'ospedale unico di Pesorefano a Fosso Segliore. La pagina invece di Pesor Rubino del Corriere Adriatico si occupa del delitto di Ismaele Lulli. Siamo a Sant'Angelo in vado. Perché? Perché è stata chiusa l'indagine. Si aggrava adesso la posizione dei due imputati. L'avvocato di Igli dice niente rito abbreviato. Il PM Irene Lilliu contesta la premeditazione e l'aggravante di Sevizia. L'avvocato Asole o Asole, insomma, incontra l'altro avvocato Taormina. Questa è la pagina appunto del Corriere di oggi. Andiamo sull'altro giornale invece il messaggero, la pagina di Pesoro. Coppa Davis bis, Torino e Napoli insidiano Pesoro. Anche queste due città si sono candidate per avere appunto la Coppa Davis ad ospitare quarti di finale della competizione di tennis. L'assessore della Dora dice non sarà facile, noi ce la metteremo tutta. La federazione cerca città con certi requisiti, tra cui un aeroporto e qui certamente va male per la città di Pesoro. Fusione Pesoro-Mombaroccio, elementi di illegittimità nel nuovo referendum. I dubbi del legale che tutela il comitato del no. Oggi la sentenza del Tarra sul ricorso dell'autunno scorso. Poi si parla di furti, ancora ladri acrobati che entrano in azione a Pantano. Siamo sempre a Pesoro. Il prefetto dispone un rafforzamento di controlli in occasione della Pasqua. Poi si parla dei cantieri infiniti in viale 11 febbraio liberato dopo due anni di Odissea. Poi Ambera, testimone per escludere la premeditazione. Ambera è la ragazza che ha fatto saltare i nervi all'Igli Meta, che poi ha chiamato Ismaele per incontrarlo. A chiuse le indagini si definisce la strategia legale dei difensori di Igli Meta. Si valuta la possibilità della Corte d'Assise dove le dichiarazioni della ragazza potrebbero essere determinati. Poi c'è un drone che farà le riprese sulla Flaminia, parliamo del tratto tra Cagli Este e Cagli San Geronzo in prossimità della Galleria. E proprio per consentire le riprese aeree della zona con un drone, questa mattina la strada sarà chiusa al traffico per tre ore, dalle 9 alle 12. Questa è la notizia soprattutto per chi deve andare dalle parti di Gubbio o addirittura insomma a Roma, ecco, sappia che c'è questa interruzione, ma comunque si passa nella via interna, anche perché questa strada è stata chiusa, questa galleria per diverso tempo, per dei lavori. Blitz and Rave Party dopo la serata di Liscio, tam tam sui social, i carabinieri controllano i partecipanti e scatta anche l'arresto per droga. Lo abbiamo visto, i carabinieri saltara sono intervenuti in una discoteca di cartoceto che aveva organizzato o comunque aveva dato il locale, poi probabilmente gli organizzatori sono altri, per questa 12 ore di musica non stop. L'ultima pagina del messaggero, eccola qui, Marche Nord, Seri, Stop, Ceriscioli, ospedale unico ubicato a Fosso 6 ore, nessuna decisione è da ritenersi scontata, mentre il gruppo social Pro Chiaruccia lancia la sfida alle scelte della politica. Direi che possiamo fermarci qua, anche no, aspetta, questo titolo vale la pena leggerlo, così potete valutare anche un po' meglio tra Pesaro e Fano, insomma come vanno le cose tra i due sindaci. A Pesaro dice Ricci, a Pesaro Ricci da fiducia, finalmente un progetto, con Ceriscioli per la prima volta, la regione ha fornito concretezza, è tempo di chiudere questa partita e questa è la posizione dunque del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. È tutto, grazie per aver seguito Occhio ai giornali, noi ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS